Alcune notizie di Partenico, dopo la nostra sottocitazione l'assessore, in questo caso si direbbe al ramo, ma parliamo ovviamente dell'assessore Bonni, ha fatto togliere e ovviamente mettere in sicurezza quelli che erano i rami sopra la cabina Enel presente all'interno di Villa Falcone, quindi se c'è emergenza, come vedete adesso gli uomini dell'Enel possono entrare perché lì in quella cabina c'è la bassa e la alta tensione, poi credo che lunedì dovrebbero togliere tutti i rami secchi perché la Villa Falcone si dovrebbe ovviamente ripulire e mantenere il decoro, perché abbiamo avuto modo di vedere che ci sono alcuni assessori come l'assessore De Gaetano che sta lavorando per esempio per il cimitero o l'assessore Bonni che sta lavorando per il verde, poi c'è il sindaco che mantiene per sé tante deleghe, ma attenzione, continuano a pervenire segnalazioni per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, per esempio se guardate a parte il fatto che vi diciamo che la zona, ci arriva la comunicazione che la zona Giardini di Nasseria, Piazza San Gregorio Magno e tutta quella zona, lato Montereppe è totalmente al buio nonostante i rispettivi nonostante i solleciti fanno presente, questa per esempio è la zona, la cosiddetta zona che si chiama Isola, all'Isola, credo che la via precedente sia la via Zito, siamo nella zona della via P3, siamo nella zona della via Madonna, tra le altre cose lì c'è una chiesa all'aperto, tra le altre cose c'è tanta monnizza pure, e dove come potete vedere è totalmente al buio e lì è zona, mi dicono tra le altre cose che è zona di spaccio, zona di tanto e tanto oltre ancora, ovviamente il buio proliferano tante cose al buio, quindi potrebbe diventare o diventa una zona ovviamente che deve essere illuminata al più presto, a mio parere.